Nonostante il lockdown, nonostante la DAD, nonostante le tragiche notizie che provenivano dai telegiornali, i nostri alunni hanno continuato a coltivare le loro passioni, l'arte, la musica, le scienze umane e grazie al supporto dei docenti sono riuscite a realizzare queste splendide attività nel corso dell'anno 2021 che con grande orgoglio vi vado a presentare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.